Un simposio della sostenibilità con le grandi realtà del mondo dell'agricoltura l'ha ospitato Montefano in provincia di Macerata e ha visto le marche protagoniste di un appuntamento di grande attualità con il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità nell'agricoltura al centro dell'attenzione. L'incontro, organizzato dalla storica azienda vinicola marchigiana Conti degli Azzoni, insieme con l'Università degli Studi di Milano nel Teatro La Rondinella, un gioiellino incassonato nel piccolo centro del maceratese, ha riunito esperti del settore, docenti e ricercatori, che hanno presentato le loro esperienze, le loro storie e i loro progetti, con una folta rappresentanza di studenti, futuri agronomi e di appassionati del settore, uniti dal progetto europeo Life Vitisom. Valperto degli Azzoni, proprietario della Azoni Wines. Quello che per noi è la sostenibilità è mettere al centro dell'attenzione la terra, chi lavora la terra, chi vive della terra e chi consuma i prodotti della terra. Quindi noi mettiamo al centro la natura. Che cosa significa in pratica? Significa zero pesticidi, zero sprechi d'acqua, evitiamo tutto quello che è intensivo, lo stress che può essere sull'ambiente o può essere sulle persone e quello che cerchiamo è di essere sempre più virtuosi e più in questo modo sostenibili. Il professor Leonardo Valenti, docente di viticoltura della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano, ha presentato Life Vitisom, progetto europeo di ricerca sulla viticoltura sostenibile, a cui ha aderito la Conti degli Azzoni. Tra i punti forti del progetto è il software che permette, grazie a una moderna tecnologia, di leggere le reali necessità del terreno, con un miglioramento della gestione del suolo, distribuendo il concime in modo mirato e la riduzione dei fertilizzanti chimici nei vigneti. Cerchiamo di utilizzare tecniche innovative di conoscenza del vigneto, traslando quelle che erano le situazioni di conoscenza del vigneto fatte dai nostri genitori o progenitori. Questo progetto è tendenzialmente indirizzato a aumentare la dotazione di sostanza organica nel suolo. Perché? Perché ci siamo accorti che è una delle perdite più importanti che attualmente troviamo in viticoltura. Gian Piero Calzolari, presidente del gruppo Granarolo, ha illustrato il lavoro che punta a migliorare l'attenzione verso l'ambiente, la salute degli animali e la riduzione dell'uso della plastica nella filiera, con massima attenzione alle condizioni per il futuro dell'azienda e produttirici di latte. Oggi credo che parlare di sostenibilità significa accorciare il rapporto tra il consumatore e il produttore, perché io parlo a volte di complicità positiva tra chi produce e chi consuma. Non dico tagliando fuori la distribuzione, perché per noi lo strumento è indispensabile, però con un rapporto più diretto.